Un'insegnante positiva già in isolamento e il sindaco così chiude l'intera scuola. È successo a Castiglion Fiorentino, dove il primo cittadino, Mario Agnelli, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone lo stop sino al 25 aprile per l'asilo nido comunale Peter Pan alla Pievuccia alle porte del paese. Il motivo sta appunto nella positività dell'insegnante che lavora nella scuola frequentata da una quarantina di bambini. La maestra era già in isolamento dallo scorso venerdì. Adesso, comunque, a scopo precauzionale, il sindaco Agnelli ha sospeso l'attività scolastica per cinque giorni. La ripresa dell'attività educativa è infatti prevista per il prossimo lunedì 26 aprile e riguarderà solamente quelle sezioni che non saranno poste in quarantena preventiva dall'azienda sanitaria.